Su, venite tutti qua che facciamo un gioco! Giochiamo al gioco della collana! Per essere bello devono giocare tutti, eh? Adesso ve lo spiego. Uno di noi alla volta terrà al collo questa collana e dirà agli altri quello che devono fare e gli altri lo ubbidiranno. Poi, quando gli altri ne avranno voglia, diranno a quello che comanda il gioco di togliersi la collana e di darle un altro così via. Allora, vediamo un po' chi comincia. Comincio io per primo che conosco il gioco? Giusto che cominci io, no? Che conosco il gioco. Benissimo. Visto che siamo tutti d'accordo, cominciamo. Allora, avanti tutti insieme. Dite... Parapà! Parapà! Bravi! E adesso dite... Piripì! Piripì! Benissimo! E adesso dite... Poropò! Poropò! No, 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 senti, non ci divertiamo. Tu ci stai facendo fare delle cose completamente imbecilli. Accetto volentieri le critiche e quindi se lo desiderate, cambio discorso. Dunque... Perepè! No, senti, avevi detto che quando gli altri volevano potevano farti togliere la collana e questo è il momento. Certo, se lo volete dovete allora decidere a chi andrà la collana. fatelo con calma e pensateci bene e in questa fase di preparazione guardate attentamente la lucina ecco questa lucina la vedete? pensate, concentratevi pensate liberamente non lasciatevi condizionare così bravi ecco così avete deciso? abbiamo deciso votiamo per te grazie signori sono contento della stima e della fiducia che ancora una volta ci avete concesso il nostro governo opera con il consenso del popolo per il bene del popolo orsu tutti insieme verso un mondo migliore parapà parapà perepe parapà parapà grazie a tutti 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 grazie a tutti